Bene, stanotte ho dormito un'ora per colpa di una zanzara, forse anche dieci minuti, non si sa. E quindi adesso... E adesso partirà un momento di lamentele. Niente, praticamente mi è arrivato a casa Milano l'iPhone 7 e io sono a Roma. Siamo saliti sull'aereo con dei documenti falsi, infatti mi chiamavo Gionache Sperlachi. E tu te li chiamavi? Comunque c'è di buono che ad accompagnarci c'è un bel tempo. Il suono delle dita è stato appena aperto da Soprelli, rifallo. E finalmente mi è arrivato l'iPhone 7. Beh, minchia, è super figo, raga. Mi piace un sacco. 256GB. Un po' grossa sta fotocamera, però figo. Mi piace. Sono appena tornato a casa dal diluvio, ero a fare una visita alle corde vocali e mi hanno infilato una telecamera nel naso, raga vi giuro. La cosa più brutta della mia... E comunque ho scoperto che alla fine delle mie corde vocali mi sono andate a puttane! Bene, sto facendo questo Instagram Stories dall'iPhone 7 ed è incredibile perché, Gio, vuoi sapere cosa cambia? Niente. Non so. Non cazzo.